Un applauso. Vi ringrazio davvero di tutto perché voi siete miei concittadini e io so che voi ritenete questa la vostra città. Dobbiamo fare tutto quanto è possibile per renderla più bella, più accogliente, per renderla migliore per noi tutti ma soprattutto per i ragazzi, i giovani, i bambini, per quelli che la vivranno per tutta la vita. Grazie davvero per tutto quello che fate, per questa bellissima iniziativa e un grazie speciale naturalmente a Maria. Grazie, facciamo un applauso. Il sindaco che lui non poteva praticamente essere qua ma come tutti gli anni lui fa un sacrificio per venire a darci un piccolo saluto a tutte le mamme. Come dicevo prima, io oggi vorrei che le mamme che sono qua si divertano, che ballano, che facciano un po' di tutto perché quest'anno noi con un grandissimo sacrificio da parte di questo gruppo di volontari che si è dedicato a lavorare, a dare una mano perché questa festa riesca, siamo riusciti a farsi, non è stato facile. Comunque, ballate, gozzi, 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 gozzi. Martín, dico a la madre, lo ponemolo despieto. Lo ponemolo despieto. De pie. di whatever. drawn A... ... ... Grazie a tutti. 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 Ok, buon divertimento.